Diciamo che questa richiesta suona alquanto strana, in quanto l'articolo 1 con le definizioni l'abbiamo rivisto insieme con Italia Viva qui alla Camera e anche con gli uffici della Ministra Bonetti, quindi risulta abbastanza incomprensibile questa richiesta. Io credo che questo provvedimento sia un buon provvedimento, perché è un provvedimento equilibrato, perché ha una parte di prevenzione, ha una parte anche penale e una parte che riguarda l'assistenza alle vittime dei crimini di odio. Dunque io ritengo che alla Camera abbiamo fatto un grande lavoro anche di ascolto, l'articolo 4 l'abbiamo introdotto peraltro riformulando un emendamento dell'opposizione, quindi ci sono tutti i tasselli, andare a toglierne uno significa peggiorarlo e allora non ha senso chi l'ha votato alla Camera che lo voti anche al Senato e così ci sono i voti, perché la matematica non è un'opinione. Quindi ritengo che non ci si può neanche fidare della Lega, perché se la Lega presenta 700 emendamenti vuol dire che questo provvedimento lo vuole affossare, ha altro che dialogo e d'altra parte l'hanno sempre detto che non lo volevano questo emendamento. Io non credo quindi in questi propositi di Salvini, mi sembrano assolutamente irricevibili per quanto mi riguarda, spero che quindi si continui, si vada avanti perché si aspetta questo provvedimento da 25 anni, si tratta dei diritti delle persone, è una legge di civiltà che non toglie niente a nessuno ma dà a tante persone maggiore protezione ed è quello che vogliamo fare. Si tratta quindi di persone che subiscono discriminazioni basate sull'odio, c'è anche la parte che riguarda la misoginia e questo credo che sia un dato molto rilevante perché oggi le donne, specialmente nei social media ma non solo, sono le prime vittime dell'odio, allora era evidente che dovevamo inserire anche le donne se stiamo trattando dei crimini d'odio. Io ritengo che sia un errore perché non cambia la sostanza, peraltro il test era stato discusso e votato da Italia Viva e dagli uffici della Ministra Bonetti, quindi non si comprende oggi perché abbiano cambiato idea, senza peraltro aggiungere nulla di nuovo rispetto a quanto già c'è, sono riformulazioni da quello che abbiamo visto più di forma, ma questo ha un impatto invece che può essere anche molto negativo perché è evidente che poi rimandare il testo alla Camera presenta molti più pericoli e molte più incertezze. Il testo va approvato così com'è. Meglio rischiare che portare a casa una legge contro le discriminazioni che va a discriminare, questo sarebbe insopportabile.